Ciao e benvenuto, siamo qui oggi per presentarti il nuovissimo progetto per lo sport. L'obiettivo è quello di incrementare le varie performance sportive, evitare di infortunarti o di incorrere in problematiche abbastanza frequenti che sono proprio dietro l'angolo nel momento in cui inizi la tua attività sportiva. E purtroppo vedo che sempre tante più persone si improvvisano quando fanno sport, sia a livello alimentare che nutrizionale, vengono imbottiti in una quantità impressionante di integratori, di pillole, di ogni genere e tipo, nel tentativo di aumentare quelle ipotetiche performance senza rendersi neanche conto dei danni che vengono creati anche a livello organico. La stessa identica cosa, quando ci si approccia a un'attività sportiva, si inizia a fare dei lavori, degli esercizi, dei pesi o qualsiasi altro tipo di esercizi senza avere fatta una valutazione medica, anche posturale, biomeccanica, funzionale del proprio organismo, sia in statica che in dinamica, dove vengono scoperte, come normalmente vedo anche su tutti i vari pazienti, delle problematiche magari misconosciute, come delle anche che funzionano male, bloccate, delle ernie al disco o dei problemi posturali o legati a delle contratture di alcune fasce muscolari che vanno a scompensare a livello posturale l'organismo. Ora nel momento in cui tu ti approcci a fare un'attività sportiva capisci bene che se c'è un problema che sta a monte e di cui tu non sei magari a conoscenza, spesse volte non fai altro che peggiorare la situazione nel momento in cui ti accinge a fare degli esercizi o a fare un nuovo sport. Quindi l'obiettivo di questo nuovo progetto, a te che fai, che decidi di praticare sport, farlo evitando e riducendo al minimo i rischi di infortunarti e mettendo a tua disposizione uno staff ultra professionale e competente che possa soddisfare ogni tuo bisogno sia dal punto di vista medico sportivo, alimentare, nutrizionale, integrazionale, farmacologico quando è strettamente necessario, biomeccanico, posturale, con un personal trainer anche che ti farà specificamente un programma chiaramente anche personalizzato e quindi avere una serie di servizi che saranno di fondamentale importanza affinché tu possa massimizzare le tue performance e ridurre chiaramente al minimo i rischi. Io sono Mirko Alonso, sono un medico chirurgo, sono autore del libro Metodo Alonso, la medicina del futuro e del libro Performance, migliora le tue prestazioni sportive con il metodo Alonso. Mi occupo anche di ricerca, sono un ex atleta professionista per cui da ex atleta che purtroppo ho subito tantissime incompetenze da parte di tanti pseudo professionisti che hanno rovinato per così dire anche la mia carriera sportiva e soprattutto la mia salute. Ho avuto varie problematiche di salute che poi ci sarà modo anche di parlarne e da lì è nato il mio sogno, quello di vedere tante persone che si approcciano al mondo sportivo che lo fanno in sicurezza, vivendo una vita felice e appagante, facendo sport in assoluta armonia con l'obiettivo di far vincere proprio lo sport. Per cui ho messo in piedi anche uno staff di persone, avvalendomi di professionisti davvero competenti che si occupano anche di ricerca, tra cui l'amico qui Max Stratzer, che con delle tecnologie d'avanguardia e una metodologia precisa, oculata, mirata, testata, è in grado di riuscire a fare delle valutazioni assolutamente straordinarie su tantissimi sportivi, a ridurne chiaramente i rischi di infortunio e riuscendo a massimizzare le performance secondo quelle che sono le più moderne tecnologie attualmente disponibili e con la sua indiscussa professionalità che è riuscito a metterle a punto. E ora presenteremo brevemente queste ricerche. Da un punto di vista di innovazione è proprio l'investimento, la ricerca degli strumenti atti a misurare tutto ciò che otticamente non possiamo vedere. Quindi da una cinematica della pelvi, da una valutazione dinamica della persona per cercare di prevenire quello che può succedere nel tempo. Quindi tutti i sovraccarichi e tutte le posture che possiamo avere durante il giorno anche dal lavoro, dalla macchina, durante la scuola e in tutte le situazioni che ci permettono di purtroppo attivare dei compensi. Diciamo l'esperienza expressionistica mi ha portato a sviluppare alcune strumentazioni e tecnologie che mancavano dal punto di vista valutativo. Quindi assieme a questa equip dà la possibilità di valutare a 360 gradi il problema. Quindi il fatto di prevenire una certa problematica e di attivarne il percorso per cercare di risolverla. Quali strumentazioni hai messo appunto in questo tuo percorso? La più semplice si parla di una podometria di una ricerca della morfologia del piede e dell'impronta. Una fotografia molto particolare attraverso uno software ci dà la possibilità di misurare i parametri del piede. Da lì inizieremo tutto il percorso dal punto di vista biomeccanico. Abbiamo la possibilità di farlo vedere la parte proprio podometrica? Certo, questa è la parte podometrica dove un'immagine molto dettagliata del piede ci dà la possibilità di misurare i parametri quindi consigliare dal punto di vista sportivo la miglior calzatura, il posizionamento dell'attacchetta per quanto riguarda il ciclista, il miglior scarpone per quanto riguarda il sciatore e via via per tutti gli altri sport. Una serie di misurazioni ci dà anche la possibilità di rapportarci con i laboratori di otopedia e quindi essere di supporto al clinico in qualsiasi tipo di ambito. Il secondo strumento è una pedana stabilometrica che ci consente di valutare le oscillazioni e i carichi in ortostatismo. Questo ci dà la possibilità di confrontare l'immagine ottica del podoscopio e trasdurla dal punto di vista biomeccanico in forza, come si vede nell'immagine. Quindi non avremmo mai potuto capire dove si applicava la forza. In questo esempio è chiaro che la forza è arretrata a sinistra. Quindi abbiamo la possibilità di valutarne l'effettiva scarico a terra appunto dell'applicazione. Il terzo strumento riguarda un accelerometro, un giroscopio. Ci permette di valutare tutti i segmenti corpori nella loro mobilità articolare, nella ROM articolare, ma soprattutto rilevare con assoluta precisione il movimento accessorio. Quello che ci dà la possibilità di reclutare e attivare quel percorso di rieducazione funzionale, riabilitazione, qualora non vi fossero assolutamente nessun tipo di sintomi. Quindi la persona è asintomatica, quindi non prevede nessun tipo di disturbo, ma con questa strumentazione riusciamo ad attivarne e rilevarne in compenso. L'ulteriore strumento è una solita elettronica, solita elettronica formata da sensori piezoresistivi. Ci dà la possibilità di rilevare il carico all'interno della scarpa, cosa che fino ad ora era stata fatta a piedi nudo. In questo caso possiamo rilevare la scarpa tecnica, che sia una scarpa da running, che sia una scarpa da sci o da ciclismo. Possiamo valutarne l'effettivo carico in movimento, quindi la persona pedala, corre, salta, nell'esempio del golfista o del tennista. Possiamo farlo nelle rispettive logistiche dello spazio con cui effettua il suo sport e nella sua performance più libera. Ritengo opportuno sottolineare un fatto importante, questa strumentazione non dà vincoli, quindi possiamo rilevare il movimento nella massima libertà. Benissimo, per cui apparecchiature veramente di ultimissima generazione, dove la cosa straordinaria è l'applicazione, l'unione della scienza allo sport, quindi unire le più moderne tecnologie scientifiche con una metodologia assolutamente accurata e precisa unite allo sport, proprio per massimizzare le performance e ridurre al minimo chiaramente i rischi di infortunio. Il tutto va chiaramente completato con un programma nutrizionale e alimentare specifico, personalizzato ad hoc sulla tua persona, che verrà poi anche integrato a analisi mirate e specifiche dal punto di vista come trainer, quindi come allenamenti mirati, fatti sulla base di una visita assolutamente precisa, mirata e specifica per le tue esigenze, dove si comprende la causa che sta generando delle problematiche anche misconosciute che tu neanche sei di avere e si lavora direttamente sulla causa e non sul sintomo. Questa sarà la cosa più importante, per cui sei tra i primi proprio a conoscere questo nuovo progetto che siamo entusiasti di farti conoscere. Seguici nei prossimi video, iscriviti al canale YouTube, lascia un mi piace sulla nostra pagina Facebook, c'è anche il nostro sito www.metodoalonso.it Ciao al prossimo video, qui da Mirko Alonso e da Max Stratzer. Ciao! Ciao! Ciao!